Wahey Kooj, ben ritornati da vostro andrink, sono Antonio in questo nuovo episodio di Yokei Watch Puni Puni Riguardo lo scorso episodio che è uscito oggi in linea temporale, ma in realtà per voi sarebbe ieri Dato che il video questo qui dovrei farlo uscire di venerdì, quindi oggi, per voi È successo un bel casino con lo scorso video, perché praticamente era finito l'evento Io l'ho registrato una settimana dopo che era iniziato E l'ho caricato talmente tardi che oramai l'evento era finito L'evento finisce alle 5 e inizia un altro evento che sarebbe venerdì in Giappone Non so quando è iniziato di preciso questo, comunque sia Ho caricato il video che l'evento era finito, per capirci chiaro e tondo E quindi, niente, eccomi qua con un altro video per riparare al danno dello scorso Quindi lo carico praticamente subito, cosa che avrei dovuto fare anche con l'altro Ma, ehi, fa nulla Dunque, iniziamo subitissimo con le quest, senza perdere altro tempo, perché ne ho perso già troppo Dunque, bisogna giocare attacco a punteggio Ok, questo è sempre un must in tutti quanti gli eventi delle quest, quindi della missione Poi abbiamo da sconfiggere nel torneo Nita Nita San Vabbè, non so che yokai sia, comunque sia Dovrebbe essere di Shadow Side a questo punto Sconfiggetelo nel torneo C'è da sconfiggere anche Junia Junior, praticamente Che poi ho visto diventa un bellissimo drago Nella forma Shadow E non vedo l'ora di giocarlo su yokai watch 4 appena uscirà il 6 giugno Poi abbiamo Sora Ten Poi abbiamo lo yokai a sconfiggere Kento E poi abbiamo da vincere 15 coppe O meglio, vincere 15 volte il torneo Comunque, se vincendo il torneo un certo numero di volte Vi dà accesso, ovviamente, ad altri premi Che sono questi qui Insomma, se voi giocate a yokai watch Avete la possibilità di prendere anche questi premi Se vi piacciono Io non gioco quasi per niente Quindi non arriverò neanche a prenderne 10 Però cavoli, c'è questo yokai qui che mi intriga parecchio ora All'ogni modo Andiamo a vedere prima le missioni E poi faremo anche qualche battaglia al torneo Insomma, tanto per gradire Vediamo dunque le missioni Ok, vinci il torneo 10 volte Va bene Vinci il torneo 20 volte Vincilo 30 volte Vincilo 50 volte Vincilo 100 volte E va bene Poi Ok, questa qui è quella delle sfide Che devi fare con il biglietto Avete presente quella Quando vai a rubare gli oggetti all'avversario Praticamente Voi avete il tesoro Quando cercate di rubare il tesoro all'avversario Una di queste cose qui Uno di questi pezzi Non importa Di quale tesoro si tratti Se degli yokai Se dei segreti dell'animo Se della moneta shadow Quando cercate di rubare uno di questi oggetti Vi sblocca appunto Un punto della missione Che vi serve da completare Vi sblocca appunto questi qui Ok Quindi fatene uno Per ricevere i punti Fatene due Fatene tre Per un massimo Di 10 volte Per ricevere la moneta Emma Coin Che vi da accesso A un Emma Uno qualsiasi Non importa se vincete L'importante è che le fate Quindi anche non vincete Va bene uguale Ricevete comunque la Emma Coin Se invece vincete Tutte e 20 le volte Vi da Un segreti delle abilità Un segreti dell'anima Due Esfere sacre 300 punti yokai Se vinci 7 volte Se ne vinci 5 Un esfera mega Se ne vinci 3 150 punti Mentre se vinci una volta Un segreti dell'anima Mini Quindi Le missioni qua sotto le ultime Da 1 a 7 Dovete vincere per forza Se volete le ricompense Un totale dovete vincere Di 20 volte Mentre Se ci provate almeno 10 volte Vi prendete la Emma Coin Mentre qua sopra Ricordo Vincete il torneo Per 100 volte Più semplice di così Le missioni non potrebbero essere Questa è la prima settimana Del torneo La prossima Se ho tempo Se mi ricordo Più che altro Se mi ricordo Dovrebbero uscire Le altre missioni E quindi E quindi vi dirò anche Quelle cosa c'è da fare Nel caso escano Dovrebbero uscire Però quando è il torneo È un po' strano Il gioco Contro Drago Azzurro Abbiamo anche Junia E E Nita Nita San È Drago Azzurro Questo? Sì mi sa che è Drago Azzurro Però Shadow Forma Shadow Bello Questo Questo Yo-Kai spero sia forte In Shadow Perché mi piacerebbe Un sacco A reclutarlo È il famoso Drago Cinese Bellissimo A me i draghi Piacciono un sacco Però In Yo-Kai Watch I draghi Non è che siano Molto forti Ci sono Yo-Kai Molto Più potenti Subito Energy Max Non perdiamo tempo Boom Finito Supponi puni Io non è che vado A Yo-Kai più forti Vado con quelli Che mi piacciono di più E quelli di questa squadra Mi piacciono un sacco Quindi uso questi Tanto Per quello che gioco Bastano e avanzano Non faccio Troppe Troppe sfide Quindi Oh subito Nita Nita È uno di quelli Yo-Kai che dobbiamo Sconfiggere Di là Non mi sembra Di averci fatto caso Ma non c'è nessuno Di importante Bisognerà sicuramente Mamma mia Ma che è Sotto la faccia Si vedeva prima Ora che lo vedo intero Mi fa paura Oh non è che sarà Per riferimento Ah no Spero non sia un riferimento Al segnale stradale Che si muove in continuazione Sarebbe assurdo Cioè Da strizza cervelli Sta cosa Vabbè dai Tanto Non mi interessa Volevo sconfiggerlo In Fever Time Per fare un po' Di punti extra Ma Ecco E lì infatti Ne abbiamo già fatto uno Vedi Oh ragazzi Penso che ce la posso Faccoci Però mi deve uscire qualcuno Che ancora Devo riuscire ad unire Eccola Vai Mamma mia Ragazzi Che roba Bomba Certo Se fossi riuscito A caricare anche M all'antico Sarebbe stato Vabbè Non dico di no Però Ma è andata malissimo Potevo fare molti più danni Potevo fare Però Vabbè dai Perché Sapete dove ho sbagliato Prima A caricare Avevo questo Shogunyanji Super pompato Però Ho fatto male i calcoli Vabbè Non fa nulla Bene Ora dovrebbe esserci L'ultimo incontro Io contro Oh Lei La volpina Che è un dream match Oltretutto Non ce l'ho Bunny trap Trappola per 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 conigli O coniglio delle trappole Sarebbe ancora peggio Beh Uno che è diventato Coniglio Un coniglio che è diventato Yokai Dopo essere stato Ucciso da una trappola Beh Non è una Notissima fine Rinascere come Yokai Per terrorizzare le persone Che ti hanno ucciso No O lo è Non ho avuto neanche il tempo Di fare nulla Che già è crepata Stavorena Troppo debole Una moneta G C'è un pezzo di moneta Shadow poi Neanche G La cosa brutta Dello Yokai Watch Che uscirà per Per Nintendo Switch È che non potremo Scannerizzare I QR code Perché Nintendo Switch Non ha una fotocamera E I QR code Si potranno Leggere solo tramite Comunicazione NFC Quindi deve esserci Qualcosa di fisico Che vada a contatto Con l'NFC Vabbè Insomma Sarà un po' più Complicata la cosa Ad ogni modo Questo era Una piccola parte Del torneo Come ho detto Appunto Se vincete 15 volte Avete accesso A delle missioni Ovvero le quest E avete accesso Anche a Nita Nita Sun Che Sinceramente Mi ha fatto Molta paura Bene Se nella prossima settimana Usciranno Delle nuove missioni Vi dirò come fare Per completarle Però per questo video È tutto Io come sempre Vi ringrazio Per averlo seguito Vi ricordo ovviamente Che in descrizione C'è il link per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi a noi Ci vediamo come sempre Al prossimo video Bye bye